I carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore di Davide Mangiapane, il ragazzo di colore di San Giovanni Gemini, insultato e picchiato. All'Ercara Friddi, i dettagli. Sabato 21 luglio scorso Davide Mangiapane è stato insultato e aggredito in ansia ad una pub all'Ercara Friddi, in provincia di Palermo, dove spesso ha lavorato come ballerino. Lui, 23 anni, è un ragazzo di colore, africano, ma adottato appena nato da una famiglia di San Giovanni Gemini. Due settimane dopo l'aggressione, i carabinieri, informati di quanto accaduto da cittadini di San Giovanni Gemini in mancanza di denuncia da parte della vittima, hanno identificato e denunciato i due aggressori. Uno è minorenne e l'altro adesso è stato arrestato ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di Giuseppe Cascino, 29 anni, di l'Ercara Friddi. L'arrestato risponderà all'autorità giudiziaria di violenza e lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Ed è un aggravante che all'atto della denuncia non è stata contestata. Peraltro il sindaco di l'Ercara, Luciano Marino, si è premurato a precisare di conoscere l'aggressore, di essere sicuro che non si tratti di razzismo, quanto invece di abuso di alcol e di ignoranza. Davide Mangiapane è stato prima insultato e poi picchiato violentemente, nonostante fosse ormai a terra, privo di sensi, con la mandibola fratturata. È stato ricoverato all'ospedale civico a Palermo, dove ha subito un impegnativo intervento nel reparto di chirurgia maxillofacciale. La prognosi è di oltre 40 giorni. La madre di Davide Rita Tagliareni, dopo l'arresto di Cascino, commenta Sono contenta, ma anche dispiaciuta, perché non fa piacere vedere un ragazzo agli arresti. Ma è giusto che la legge faccia il suo corso. Davide è stato dimesso dall'ospedale da tre giorni, ma ha problemi d'udito. Una situazione da rivedere. Non dovevano fare tutto questo a mio figlio. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Merese, competente per il territorio. L'ordinanza cautelare è stata eseguita dai carabinieri. E il colonnello Luigi De Simone, comandante del gruppo Monreale, ricostruisce quanto accaduto così. Davide Manciapane è stato preso a calci e picchiato anche mentre era a terra, ferito. La lite è iniziata per futili motivi ed è sfociata in un vero e proprio accanimento nei confronti della vittima. ...diciamo episodi di minaccia perpetrate con quelle modalità...